Buon lunedì 3 ottobre. Domani sarà la festa di Francesco D'Assisi e inizieremo il nostro viaggio verso la Sardegna per incontrare le amiche e gli amici dei club di tutta Italia al Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana dei Club Alcologici Territoriali a Cala Bonone. Immagino sia un posto bellissimo sul mare e sarà un'occasione per non solo incontrarci amichevolmente, con fraternità, con un senso anche della convivialità, ma anche per poter riflettere insieme intorno a temi che sono parzialmente alle nostre spalle ma soprattutto sono rivolti al futuro. E a tale proposito, essendo oggi lunedì, riprendo la lettura della maggioranza deviante, siamo alle pagine finali, questo testo fondamentale che ci interroga ancora oggi con estrema attualità. C'è una permanenza di quelle domande anche relativamente a ciò che andiamo a fare a Cala Bonone, a riflettere intorno alla questione relativa al club, a questo definito bisogno di comunità, ma che io voglio interpretare come un desiderio di comunità più che un bisogno. È la costruzione di buoni legami e anche in questo caso piace declinarlo in termini di relazione più che di legami. Sono sfumature linguistiche che però ci portano nel cuore di un dibattito sempre più necessario anche relativamente al nome dei club. Vedete, i club nel corso del tempo sono passati dal definirsi club degli alcolisti in trattamento a club alcologici territoriali. Andiamo molto indietro nel tempo, 2010, Pestum. Oggi, 2022, immagino che potremmo incominciare a ragionare intorno al significato della parola club, questa realtà comunitaria, relazionale, che guarda con attenzione all'approccio familiare, riconoscendo alle relazioni familiari un significativo rispetto condizionato della vita di ciascuno di noi e nell'intreccio delle vite condivise, nei destini condivisi. E soprattutto l'apertura dei club alla multidimensionalità della sofferenza umana implica che, prima ancora cambiare nome con la centralità della questione alcologica, dovremmo incominciare a declinare ciò che abbiamo sperimentato in campo alcologico ad altri aspetti della multidimensionalità della sofferenza umana, alle infinite sfaccettature dei toni umorali, ideativi, comportamentali, stili di vita che caratterizzano le nostre esistenze, tra induzione al consumismo e contemporaneamente apertura a un pensiero critico che vuole fare dell'ecologia la propria bussola orientativa dell'esistenza. È non facile naturalmente fare questo, questo deve essere tradotto in termini di cambiamento culturale. Ma vediamo che cosa ci dice la maggioranza deviante in questo ultimo capitolo dove si mette in evidenza la centralità delle teorizzazioni nella evoluzione di una ricerca che è ancora in corso, di declinare e accogliere la sofferenza mentale in termini di domanda che viene posta alla cultura esistente. Certo, le nuove teorizzazioni psichiatriche, psicosociologiche, fenomenologiche, neopositivistiche, strutturalistiche da una parte e le esperienze d'avanguardia dell'antipsichiatria dall'altra sono diverse. Ecco, ci sono delle interpretazioni, delle sfumature attualmente ancora presenti. Il modo di porsi dei club nei confronti della scienza del mondo professionale la dice lunga. È una posizione chiaramente di avanguardia che cerca in tutti i modi di sottolineare la forte de-medicalizzazione e de-psichiatrizzazione. Attenzione perché Udoni non ha mai parlato di de-professionalizzazione. Parla in modo specifico della realtà che riguarda la psichiatria e la medicina nel affrontare quella dinamica complessa dell'esistenza che è sottolineata da una condizione di disagio spirituale, di incapacità di accettare se stessi alle condizioni date e come allora anche oggi vi è una istanza decisamente anti-psichiatrica e anti-medicalizzazione e dall'altra parte un tentativo riformista il quale cerca in qualche modo di far sì che l'inclusione del mondo professionale poi si traduca in una armonizzazione tra scienza ed esperienza. Anche questo aspetto pur essendo estremamente interessante da approfondire contiene però qualche elemento critico che non dobbiamo mai abbandonare. Pertanto la contrapposizione tra riformismo e istanza rivoluzionaria a mio parere deve essere superata anche relativamente al congresso che andiamo ad affrontare nei prossimi giorni. Tra parentesi ovviamente trovandomi in Sardegna dovrò registrare prima le riflessioni mattutine. Se avrò l'opportunità e se ci saranno le condizioni tecniche per poterlo realizzare cercherò anche di fare qualche riflessione in luogo ma non lo posso garantire che sia possibile. In ogni caso per garantire una presenza mattutina pre-registrerò prima fino al giorno del ritorno che sarà il lunedì mattina nel attraversamento del mare per ritornare a Livorno e poi tornare a casa. Ecco questo chiuso da parentesi relativamente a ciò che farò nei giorni che precedono il congresso per appunto tenere sempre viva l'attenzione intorno a questi temi che riguardano come sapete la persona il sacro, riguardano il saggio di Gregory Pezzo, riguardano la medicina e il biopotere, il Tao Te Ching, la riflessione sui testi sacri della liturgia cattolica. Tutto questo a mio parere deve continuare a perseverare anche se viene registrato. Ma a Calagonone, appunto, ritorno alla questione posta prima, ci confronteremo relativamente al significato dei club e forse alla necessità di cercare una denominazione congrua al significato stesso del club. Ripeto, a Pestum avevamo deciso di votare a maggioranza, è una consuetudine non frequente nel mondo dei club, è quello di votare a maggioranza, però in quel caso fu necessario. E una parte continua a definirsi club degli alcolisti in trattamento, da rispettare e da porre come punto di riferimento di continuità della storia di questo movimento ecologico, sociale e antropo spirituale, che focalizzando la centralità dell'alcolista, sottolinea come dobbiamo guardare a quella esperienza come fonte inesauribile di apertura nei confronti di un percorso che sia capace di destigmatizzare, di cogliere il senso stesso dell'alcolismo e delle ricadute, che non sono espressione di un difetto, di una singola persona da annoverare tra i malati, o tra le persone viziose, o ancora tra le persone che tutto sommato non sono venute su tanto bene evolutivamente, no, nulla di tutto questo. Dentro l'esperienza dell'alcolismo, delle sue ricadute, delle forme di intossicazione, c'è un insegnamento che riguarda tutti, il rapporto che noi abbiamo con l'idea di potere e di controllo, come ci insegnano anche gli alcolisti anonimi nel loro primo passo, nel quale si riconosce che c'è un potere più grande di fronte al quale non si può fare nulla e che qualcuno chiama Dio, ma questo non porta necessariamente a uno stato di impotenza depressiva, ma piuttosto a una evoluzione responsabile da protagonisti, perché gli alcolisti anonimi poi propongono i passi successivi, in tutto sono 12, ma il club ecologici territoriali, il club degli alcolisti in trattamento, il club di ecologia sociale, antropospirituali, il club udoli, il club di ecologia familiare, cercano in tutti i modi attraverso la vita comunitaria di perseverare in un processo di crescita e maturazione che non si arresta di fronte alle difficoltà, ma cerca di coglierne il senso stesso trasformativo ed evolutivo, una occasione, ogni volta che c'è una ricaduta, per ripensare al nostro percorso di cambiamento. Dunque le prospettive si mescolano nella diversità e si confondono, istanze professionali, pensiero critico, tutto questo dobbiamo riconsiderarlo e ritradurlo nei termini appunto della visione ecologico-sociale antropospirituale. Ancora una volta si trovano di fronte la nuova scienza e l'antiscienza. Questione aperta questa, del rapporto che noi abbiamo con la scienza, veniamo da un periodo storico nel quale in qualche modo ci siamo adeguati all'udice la scienza, senza avere uno spirito e un pensiero critico, e naturalmente cercando di non cadere nella trappola del negazionismo, la tendenza neoscientista e la tendenza critico-negativa. Vedete, questo è un passaggio, siamo negli anni 70, vi è una tendenza neoscientista, lo dice la scienza, e una tendenza critico-negativa, cioè la critica assoluta nei confronti della scienza. La traduzione di questa contrapposizione in termini evolutivi a mio parere è rappresentata da una attenzione nei confronti della ricerca scientifica coniugata dall'esperienza soggettiva. Siamo ancora molto lontani dal fare in modo che i club rappresentino effettivamente un luogo di ricerca esistenziale che sappia coniugare scienza ed esperienza. Per l'una, cioè la posizione scientista, si tratta di ridefinire l'oggetto della propria conoscenza, per l'altra di negare l'oggetto della propria conoscenza. Veramente viene espresso in pienezza ciò che abbiamo vissuto in questi ultimi anni tra negazionismo e scientismo. Il tempo è maturo, a mio parere, per cominciare a ripensare radicalmente il nostro modo di porci di fronte alla multidimensionalità della sofferenza umana, di fronte al fenomeno della malattia, dei limiti della nostra esistenza, dei disturbi del comportamento, di quello che troppo sbrigativamente consegniamo all'egemonia psichiatrica, senza fare in modo che la psichiatria cerchi un cammino di crescita e maturazione che la liberi dalla specializzazione eccessiva e riduttiva. Quello di cui ci parla anche Franco Basaglia, ma che anche Vladimir Rudoni, in qualche maniera realizzò, cercò di realizzare e ci lasciò il compito di continuare su questa strada critica e non negazionista. Per entrambe si tratta di riconoscere che il proprio oggetto non è specifico, ma generale, cioè sociale. Qui siamo negli anni 70, nei quali si afferma che anche il riformismo psichiatrico si apre alla dimensione sociale, in termini naturalmente un po' scientisti, ma si apre, si apre, questo è il punto centrale, fondamentale, cioè che l'oggetto è simbolico della società, cioè l'oggetto della multidimensionalità della sofferenza umana è qualcosa che non riguarda specificamente l'individuo ma il suo sistema relazionale, non solo familiare ma anche sociale e comunitario. Per le scienze umane moderne i diversi oggetti della conoscenza non sono più oggetti reali o formali ma segni della società e della organizzazione sociale e le diverse conoscenze si pongono come modi dell'analisi sociologica nel rapporto reciproco di riforma della scienza, riforma della società, riforma delle istituzioni. Cioè le contraddizioni che noi incontriamo anche se ci fermassimo semplicemente al campo alcologico riguardano un'attenzione nei confronti della riforma della scienza che deve aprirsi alla complessità, non chiudersi nel riduzionismo, essere molto attenti alla indipendenza, all'autonomia dell'agire scientifico che si sottrae agli interessi economici che molto spesso finiscono per condizionare la scienza stessa, ma questo richiede anche una riforma radicale della società, una domanda che viene posta a gestione di noi in quanto appartenenti a una dimensione comunitaria e sociale ed è necessaria anche una riforma radicale delle istituzioni. Scrive ancora nella maggioranza deviante e l'autore di questo ultimo saggio non c'è dubbio che la psichiatria come scienza umana abbia realizzato in forme diverse la modificazione della psichiatria tradizionale. Quando la psichiatria si trasforma in scienza umana è il momento in cui entra nel superamento della psichiatria tradizionale fatta di istituzione e organicismo che però, attenzione, dopo tutti questi decenni c'è ancora una suggestione che porta la psichiatria a tornare a essere organicista e largamente tradizionale nel suo ottemperare un mandato di controllo sociale. Si è negata la concezione della malattia mentale come dato biologico o realtà organica. Solo leggendo queste pochissime parole si è negata ma oggi si sta negando la concezione della malattia mentale come dato biologico o realtà organica dubito molto che oggi anzi addirittura posso affermare che oggi questa visione della malattia mentale mettiamola pure tra virgolette o tra parentesi è fortemente caratterizzata dall'essere interpretata non solo dalla scienza che sovraintende l'agire psichiatrico ma anche dall'opinione pubblica come forma di espressione biologica o realtà organica. C'è qualcosa che in qualche maniera, sì è vero abbiamo superato l'alcolismo come vizio, ma c'è sempre più una tendenza di collocare l'alcolismo nei termini di una malattia organica e biologica. Si è negata la oggettività causalistica, si è eliminata la pretesa oggettivista delle definizioni nosologiche. Quelle classificazioni psichiatriche che cercano in tutti i modi di adombrare una dimensione oggettiva della realtà purtroppo sono diventate cultura dominante, addirittura le persone si freggiano di una identità caratterizzata dai disturbi ossessivo compulsivi, sono un doc, una persona affetta del disturbo ossessivo compulsivo, sono un bipolare, finalmente hanno scoperto il mio malessere esistenziale, sono un bipolare. Questa oggettivazione nosologica finisce per costruire identità che si autoprofetizzano poi come rappresentazione di sé nelle relazioni interpersonali. sono un alcolista, un ludopatico, un tossicomane, una persona dipendente da qualcosa perché finalmente mi hanno spiegato che c'è qualcosa nel mio organismo che non funziona, probabilmente è di natura genetica perché nello stesso tempo analizzando, approfondendo la mia storia familiare hanno scoperto che ci sono stati altri parenti che nei miei antenati, i quali hanno sofferto delle stesse cose, una prevalenza di una condizione suicidaria superiore alla media. Allora pertanto io sono destinato a essere un depresso. Questo diventa cultura. Si fa cultura nel momento in cui si cerca in tutti i modi di oggettivare una condizione riducendola semplicemente nell'alveo della propria esistenza biologica chiusa dentro il nostro organismo. Non si apre lo sguardo. Vedete dagli anni 70 a oggi tutto sommato abbiamo assistito sia dei progressi ma contemporaneamente a un arretramento e intorno a questo arretramento conosciamo oggi anche una crisi profonda del club che appunto a Cala Gonone cercheremo di approfondire non semplicemente cercando un nuovo nome che possono rappresentare e possa rappresentare efficacemente l'essenza del club ma andare all'essenza del club facendoci diligenti cultori di queste domande fondamentali. La critica è stata compiuta da diversi punti di vista. Psicoanalitico, fenomenologico, esistenziale, antropoanalitico, socio-psicologico, linguistico e semiologico. Vedete quante prospettive, quanti punti di vista noi dobbiamo in qualche maniera riprendere in considerazione nel momento in cui cerchiamo di cogliere l'essenza del club. Si sono cercate le radici della follia e della malattia nei processi comportamentali comunicativi, nei sistemi simbolici culturali sociali, nella realizzazione dei comportamenti individuali di gruppo, negli status e nei ruoli, nei condizionamenti e nella stratificazione socio-economiche, nei caratteri nevrotici della società industriale, nella miseria psichica dell'uomo moderna. Ecco, qui c'è una grande apertura. Siamo, ripeto, negli anni settanta e si cercano tutti gli elementi che costituiscono la complessità della multidimensionalità della sofferenza umana. Tutto questo è attualmente presente e io spero che a Calagonone di questo discuteremo. Detro una prospettiva anche associativa, ma non solo associativa, soprattutto di inclusività nella vita comunitaria e di seme fecondo nelle nostre comunità locali, seme fecondo rappresentato dalla gira dei club, che cerca di sensibilizzare e creare una nuova prospettiva culturale nella quale questi argomenti che caratterizzano la riflessione degli anni settanta, che porterà alla chiusura dei manicomi, oggi vengano ripresi nella pienezza e nella consapevolezza della contemporaneità di quel pensiero critico, che però naturalmente non deve rimanere semplicemente pensiero o idee, deve farsi azione, concreto agire che poi si traduce nel nostro modo di vivere, nei nostri stili di vita, nel nostro modello di sviluppo, che siamo chiamati in virtù della presenza di crisi subentranti e che riguardano il rapporto con l'ambiente, con la natura, con il clima, con il nostro uso delle risorse, con il nostro modo di vedere, il sistema di tutela e di promozione della salute, ognuno di noi si faccia protagonista di una vita comunitaria feconda e pertanto anche disponibili a metterci radicalmente in discussione. Buona giornata a tutti.